Buongiorno, sono Marco Santini, sono nell'area vendita delle magazzini automatici. Quello che vedete alle mie spalle è un sistema automotore che è composto da un binario, da diverse navette, in questo caso ne mette solamente una, che è un sistema rispetto al loop tradizionale dei trasportatori, è molto più flessibile e permette di avere delle grosse prestazioni e in caso di un'eventuale anomalia rispetto al sistema tradizionale ci aiuta nel poter togliere una navetta dal circuito e rimane praticamente tutto sistema che può continuare a funzionare senza interrompere il loop.